Preparati! Arroba a tuoi biker di Tostanzà! Offresci il stranque clara! Fan... ...neida! la su un cavo di 3 e 4 troppo si rinforza per venire a far cerca ed è arrivato a cerca e sa chi dà per ultimo piano troppo tipo forza è tipo fossa pretta ma non vada vinta e vado a cerca vinta e vado a cerca troppo di 2 vado a cerca itors la scuola pagli sorted torri basurando laLogeto 10 l'anamo 1 I world am võ inc Ehi, guarda la esquina, guarda la esquina caliente!